Pace di Cristo a tutti, amata Chiesa di Cristo, io sono la sorella Elaria, moglie del ministro Bracuto Alessandro, incaricato dell'Opera OREV di Milano e volevo condividere con voi due testimonianze di quello che è successo in questa settimana. Prima di tutto voglio ringraziare il Signore per come Lui è fedele e per come veramente non ci lascia e non ci abbandona e per come conferma la parola che le nostre autorità ci danno e voglio ringraziare anche le nostre autorità al pastore Pedro e la sorella Maria per la loro vicinanza, il loro sostegno, le loro preghiere e le preghiere di tutti i Santi che hanno pregato per noi. Come molti di voi sapete è nata Noemi, grazie a Dio sa bene, però questa volta è stato un po' diverso tra un po' di cose che sono successe tra il ricovero di mio marito in ospedale e poche ore prima praticamente che io alla fine partorissi e è stato già un momento particolare quello ma il Signore ci ha dato pace, ci ha aiutato e poi è arrivato il momento improvviso del parto e il mio timore era quello di partorire da sola perché gli altri due bimbi, Isaia e Grace, sono nati comunque che c'era mio marito e si sa che comunque è sempre un sostegno, è sempre un aiuto e avere il proprio marito vicino, soprattutto in quei momenti e veramente il mio timore era quello perché l'avevano ricoverato e non sapevo se lui poteva esserci perché in realtà in teoria il giorno dopo mi avrebbero dovuto indurre il parto, invece non è andata così e la bimba è nata di notte. Però veramente posso dire che il Signore non mi ha abbandonato perché anche le ostetriche sono state bravissime, ho trovato un'ostetrica bravissima che mi è stata accanto e veramente un angelo da parte del Signore che mi ha mandato e grazie a Dio l'abbiamo invennata velocemente. e mentre ero lì in sala parto mi continuava a ripetere le parole dello studio della sorella Maria che diceva io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, confido in te il Signore. è veramente una realtà, fratelli e sorelle, che dobbiamo mettere in pratica perché molte volte si dice sì io ho fede, io ho questo, però quando per il Signore ci mette alla prova non dimostriamo la nostra fede e veramente io posso dire che anche le ostetriche, i medici che erano lì si sono meravigliati della tranquillità che io avevo perché loro la prima cosa che mi hanno chiesto al Signore e al suo marito perché l'avevano visto il giorno prima con me alla visita e alla visita di controllo ma allora io gli ho spiegato la situazione e loro hanno provato a sentire il pronto soccorso per vedere se mio marito poteva salire ma il pronto soccorso non l'ha fatto salire e ho visto veramente la mano del Signore in tutto questo perché mentre sia prima che dopo ho potuto testimoniare del Signore e mi facevano le domande, erano tutte curiose Signora ma lei cosa crede? Perché ha la fascia in testa? Perché signora lei ma lei è italiana? e allora io poi gli dicevo, gli spiegavo le cose che loro mi chiedevano tra i dolori e tutto avevamo questo momento di testimonianza e alla fine tutte le ostetriche sapevano della situazione che mio marito era sotto e ogni giorno mi venivano a chiedere Eh Signora, il suo marito come sta? Erano molto interessate comunque a me e alla mia famiglia e veramente voglio ringraziare il Signore perché è stato un insegnamento davvero grande per me dove nel dolore ma anche nella gioia posso dire questa frase se così si capisce meglio il dolore che fa crescere perché è stato un dolore comunque per me non avere mio marito lì però è stata la prova che il Signore è con me è con noi e anche quando pensiamo di non farcela lui ci dà la forza quindi possiamo affrontare ogni cosa in lui e un'altra cosa che mi è successa sempre riferito al dolore e diciamo che dopo essere uscita dall'ospedale e sono stata poco bene con dolori molto forti e veramente lì ho visto ho visto veramente come il nemico mi voleva mi voleva atterrare mi voleva mettere per terra sia mentalmente che fisicamente perché si sa quando si soffre fisicamente si è più deboli ma veramente io posso ringraziare il Signore che di nuovo attraverso la Sua parola troviamo la forza la consolazione perché ascoltando la parola della sorella Jeanette e non ricordo in questo momento il titolo però di ieri mattina mi ha dato veramente forza e ho detto Signore do a Te ogni mio dolore do a Te ogni mia sofferenza che in questo momento sento e veramente l'ho data soffrendo ma l'ho data e ho potuto vedere la mano del Signore perché ogni volta che mi veniva un dolore io gli dicevo Signore te lo do a Te e sentivo un rilascio sentivo un sollievo e sapevo che il Signore lo stava prendendo e il mio incoraggiamento in questo momento è confidiamo veramente nel Signore e diamo a Lui ogni peso ogni angustia come diceva la sorella Jeanette diamo a Lui ogni dolore perché Lui non vuole che ce lo teniamo Lui vuole che glielo diamo e se tu stai passando un momento difficile di sofferenza, di prova qualsiasi cosa dallo a Lui perché Lui è l'unico che può aiutarti e tenertelo non serve a niente ma voglio veramente incoraggiare e prego che possa essere stato di incoraggiamento per tutti voi e Dio vi benedica e pace di Cristo